Approfitterete di questo weekend con il Ponte del 2 giugno? Andrete da qualche parte e rimarrete in città? No, non stiamo a casa. Perché ci sono diverse manifestazioni qui organizzate dal comune, se il tempo permette andiamo a vederle tutte. Ma ne approfittate? Sì, 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 però non è che facciamo delle gite fuori Pesaro. No, io sono di Pesaro e oggi, adesso ci dedichiamo a fare un giro in piazza e dopo domani vado su alla fiera del Wellness a Rimini, dato che sono un'appassionata di wellness e sabato e domenica, sperando il tempo buono, andremo al mare. Posso chiedervi voi che cosa farete in questi giorni? Lavoro. Che lavoro fai? Un negozio qui in Via Balanca, commesso. Venerdì, sabato e domenica non si esce dal negozio? No, mai. Avete già in programma di partecipare a qualche manifestazione? Niente, si rimarrà in casa? Il tempo così sì. Rimaniamo in città, per forza, con tutti gli eventi, rimaniamo qua. A quali in particolare? La festa della birra vai a Flaminga, andare al molletto per vedere il tramonto e tante altre cose, non le so tutte alla morire.